La Procura della Repubblica di Milano ha aperto un'inchiesta sulle infezioni da coronavirus e sulle morti tra gli anziani ricoverati al Pio Albergo Trivulzio. Nel registro degli indagati per adesso è scritto soltanto il direttore generale Giuseppe Calicchio con le ipotesi di reato di epidemia colposa e omicidio colposo. Sono infatti oltre 120 le morti di anziani da marzo in poi nella casa di cura Pio Albergo Trivulzio sulle quali gli ispettori del Ministero della Salute sono al lavoro. L'iscrizione di Calicchio rappresenta un passaggio tecnico indispensabile per eseguire i primi atti nella fase iniziale. Le inchieste che riguardano le morti nelle case di riposo in Lombardia sono però molte e si muovono tutte in un quadro più generale, anche se il Trivulzio ha un valore politico di maggior peso per l'opinione pubblica. Nell'RSA Lombardia sono 1822 i decessi registrati, quasi il 50% del totale nazionale secondo i dati forniti dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro una differenza talmente vistosa da acuire l'interesse delle autorità giudiziari.